Forse pochi lo sanno, ma tra i maggiori produttori di vino a livello internazionale c'è la Moldova, un paese piccolo dove si trovano le più grandi cantine del mondo. L'inviato Sergio Paini. Entriamo in un vero labirinto. Botti su entrambi i lati, cartelli stradali e vie che portano i nomi dei vini. Una rete di tunnel che si estende per ben 120 chilometri. Un'immensa città scavata nella roccia, 100 metri sottoterra. Siamo a Krikova, in Moldova. Una volta vigneto dell'impero russo, oggi è un paese che esporta 400 milioni di bottiglie l'anno e che vanta le più grandi cantine al mondo. Nel 1966 l'astonauta sovietico Yuri Gagarin è emersa da queste cantine soltanto dopo due giorni, come ha scritto di suo pugno in questa lettera. Dopo la seconda guerra mondiale il problema era trovare un luogo dove conservare tutto il vino prodotto. La scelta cadde su queste gallerie, che erano miniere di pietra calcarea. C'è un microclima perfetto. 12-13 gradi tutto l'anno e umidità al 97%. Nella collezione di vini pregiati, 1.200.000 bottiglie, anche quelle sequestrate dall'armata rossa, aggerà canazista Hermann Göring, come questo vino Cacher prodotto a Gerusalemme nel 1902. Oggi l'etichetta moldava più conosciuta è il Negro de Burcari, vino rosso apprezzato da secoli alla corte d'Inghilterra. Ogni anno 2000 barili finiscono a Londra, su ordine della regina Elisabetta.